Settimana molto importante per le lavoratrici, lavoratori della Salpa di Roseto degli Abruzzi, società agricola, consortile, fornitore esclusivo di filiere di industrie roglie alimentari, gruppo che si occupa della produzione e commercializzazione di prodotti surgelati. Sul tavolo degli incontri tra aziende e sindacati c'è la delicata questione del rinnovo del contratto aziendale scaduto nel 2012. Questa è una settimana importante perché noi incontreremo l'azienda in sede sindacale per discutere del contratto integrativo aziendale giustamente scaduto purtroppo dal 2012. Ci auguriamo che, perché non è la prima volta che arriviamo alle trattative, ci auguriamo che l'azienda questa volta presenti un piano abbastanza credibile e soprattutto attuabile. Venerdì poi avremo l'incontro anche col sindaco e qui bisogna che l'azienda si assuma tutte le responsabilità che ha sottoscritto in termini occupazionali e produttivi. L'auspicio dei sindacati è quello di trovare a stretto giro un accordo che accontenti tutte le parti chiamate in causa, partendo anche dalla questione del bonus carburante più volte richiesto dai sindacati ai vertici aziendali. Speriamo, veramente speriamo che dopo 5-6 anni possiamo raggiungere un accordo che finora non ci siamo riusciti. Noi con tanta pazienza non abbiamo neanche risposto alle tante provocazioni che abbiamo ricevuto e la nostra pazienza deve essere ripagata verso i lavoratori e le lavoratrici. Senza dimenticare che un calo di occupazione c'è stato. Sembrerebbe, però questo lo vedremo in questa settimana, che il mercato stia dando segnali positivi. Però, ripeto, lo vedremo in settimana.